Pinta giornata, il gruppo P, l'Universal battono 2-1, gli old boys qui con me, Michael Stati dell'Universal, il migliore in campo della partita. Michael, hai davvero anniglito il tuo diretto avversario, l'attaccante, hai anche segnato un ottimo gol insieme a Gabriel che ti ha posto comunque in condizioni di segnare, però il gioco è stato scarseggiato, anche la scorsa partita quando io ero in GDM dove avete perso, oggi più fortuna avete vinto. Sono un paio di partite che non riusciamo a trovare la posizione giusta per riuscire a fare una buona partita, purtroppo vedremo un attimino quali cambi poter fare per riuscire a riassessare la squadra. Ho fatto un ottimo gol e lo dedico alla mia ragazza, me l'aveva chiesta anticipatamente, quindi è meritato. Ovviamente un gol di disinvenzione, pare doppio. Ovvio, poi con un attaccante che speriamo di aver conquistato Gabriele, vediamo se riesce a ritornare di nuovo a giocare con noi, vedremo di mettere in campo una formazione ottimale in modo da riuscire a far meglio. Ovviamente oggi mancava Sapienza, mancava il suo Ceri che ne avrà per due settimane come minimo. Infatti speriamo che ritornano anche loro due in modo tale da riuscire a mettere in campo una buona squadra per fare il meglio possibile. La prossima avete i fenomeni, non so che sono più o meno come voi in classifica, mi auguro che vada meglio per voi perché il gioco è un po' scarseggio. La scarseggia però cosa dobbiamo fare? Purtroppo cerchiamo di fare il nostro meglio. Tutte le partite stiamo facendo fare il nostro meglio e speriamo di continuare a fare così. Non come le ultime due partite, però di migliorare. Va bene Marco, io te lo auguro perché siete un'ottima squadra, insomma in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie. Grazie.